Cominciamo. Vi presento Scimpanzee 9. La terapia genica permetterà al suo cervello di creare cellule proprie per autorigenerarsi. La definiamo la cura per l'Alzheimer. Oh, è furbetto lui. Casa. Ha imparato il linguaggio dei segni? Sì, soltanto poche cose. Cesare mostra capacità cognitive che cedono di gran lunga a quelle di un suo omologo umano. Il farmaco nel suo sistema ha radicalmente incrementato un sano funzionamento del cervello. Il farmaco funziona? I test devono essere limitati. Quello è uno scimpanzee! Stai bene, amico? Non sei un animale domestico. Lei non va a dare sulla base. Lei è il suo figlio. Dovrete pagare per questo. Si stordi che sei io. Papà! Razzilli dov'è? Papà! Non ha mai vissuto con altri scimpanzee. Devi restare qui. Non andremo a casa per ora. Guarda chi c'è. Si crede speciale? Stupida sceglia. Imparerà presto chi comanda. Non sapete con chi avete a che fare. Chi si! Chi si!